Settima edizione del Web Marketing Festival, il nostro ospite è Luca Rossettini di The Orbit, benvenuto Luca. Luca ci ha fatto un interessantissimo intervento sull'aerospace, in particolare su un servizio, il primo servizio di trasporto orbitale al mondo, 100% italiano. Volevo chiedere, hai parlato di nuovo spazio, ci puoi spiegare meglio di cosa si tratta? Sì, il nuovo spazio è l'evoluzione dello spazio che è nella nostra immaginazione, quindi l'evoluzione commerciale. Lo spazio è diventato un territorio nuovo, dove l'essere umano si sta spingendo e ha cominciato ad essere un territorio anche per il business. Quindi tantissime aziende, abbassandosi la barriera di entrata in questo mercato, quindi riducendosi enormemente i costi, perché i satelliti sono più piccoli, quindi tantissime aziende hanno capito che possono lanciare satelliti per erogare servizi che possono essere poi venduti a terra. Questo ha generato un nuovo fenomeno e una crescita esponenziale del settore. È stato proprio definito un nuovo spazio, quindi New Space. Esiste da qualche anno a questa parte, quindi siamo veramente agli inizi di un nuovo modo di utilizzare lo spazio. Ci hai detto che l'Italia è stato il terzo paese al mondo a lanciare un satellite durante la guerra fredda dopo Stati Uniti e Russia. Oggi, quale può essere e qual è il ruolo del nostro paese in questo settore? Nonostante l'Italia sia molto nota per la moda, il cibo, il turismo, è uno dei pochi paesi al mondo ad avere nel settore spaziale tutta la filiera. Quindi, dalla capacità di lanciare i satelliti, costruirli, costruirli tra l'altro molto bene, operarli in orbita e infine rimuoverli, l'Italia è tra i pochissimi paesi che riesce a completare il ciclo di vita intero del satellite. Quindi siamo tra i principali paesi al mondo in questo settore. Ok. The Orbit offre un servizio di trasporto orbitale, il primo al mondo che è 100% italiano, perché ci hai spiegato che ci sono 23.000 satelliti che nei prossimi anni verranno lanciati nel mondo. Ci puoi spiegare meglio il vostro progetto, quello che ci hai spiegato e state facendo? Sì, diciamo che tutti questi satelliti che devono essere lanciati sono satelliti piccoli, quindi non si troveranno ad avere gli stessi vantaggi dei satelliti grandi, potendo scegliere come e quando essere lanciati in orbita. Quindi hanno bisogno di un aiuto. È un po' come la nave container che da New York arriva a Genova. I container si sa come gestirli, il porto di Genova ha le proprie gru e gestisce i container. Ma se tu dovessi spedire un pallet di piccoli pacchi, dovresti in qualche modo arrangiarti quando questo pallet arriva a Genova. Ecco, del pallet ci occupiamo noi. Lo mettiamo in un fiorino, questo fiorino è sulla nave, quando la nave attracca a Genova il nostro fiorino prende, accende il motore e va a Torino, Milano, Roma a distribuire i pacchi esattamente dove servono. Noi facciamo questo con i satelliti, quindi una sorta di servizio di logistica spaziale per i satelliti e estendendolo, noi lo chiamiamo waste management, quindi gestione dei rifiuti, perché ci occupiamo anche di fare in modo che poi i satelliti che raggiungono il fine vita non rimangano in orbita a creare problemi per i satelliti futuri. Perfetto, ti ringraziamo Luca, grazie per il tuo prezioso contributo dal Web Marketing Festival. Vi invito a seguirci sui nostri profili social. Buon Festival! Grazie a tutti!